La fondazione di Roma 3 risale al 1992, quindi siamo al ventunesimo anno della attività del nostro Ateneo. L'offerta formativa del nostro Ateneo è molto ampia, ormai quasi tutti i corsi di laurea, sia umanistici che scientifici, sono stati attivati. I nostri studenti ormai sono circa 40 mila, di cui tra 36 e 37 mila nei corsi ordinari e un 2-3 mila che ogni anno sono tra le attività post laurea, quindi tra il master, dottorati di ricerca, c'è anche una buona presenza di studenti stranieri che favoriscono i rapporti internazionali delle nostre iniziative, sia dei docenti che degli studenti, tanto in entrata quanto in uscita. A differenza degli altri Atenei romani, noi non siamo all'interno di un recinto o un campus, ma siamo inseriti all'interno della città. Molte strutture ricettive sono cambiate da quando siamo qui presenti. Alcune aree della città, penso al quadrante Ostiense-Marconi, al di là dei Viale-Marconi, quell'area che era prima caratterizzata solo dalla presenza del Cinodromo, ormai è diventato un quartiere vero, un quartiere reale che si conosce, si vive e quando sarà pronta la residenza per gli studenti di Vicolo Savini, di cui è iniziato il cantiere, secondo me sarà proprio cambiata. Questo settore urbano, oltre a questo c'è anche quello dell'area di Testaccio, vicino al Mattatoio, che è un altro insediamento del Nucleo molto importante, dove lì c'è il Polo delle Arti e la Facoltà di Architettura, oltre al terzo insediamento importante, che è quello che è vicino alla Stazione Termini, quindi Piazza della Repubblica e Castro Pretorio, dove c'è l'area dell'insegnamento di scienze della formazione. Quindi siamo dislocati lungo un asse della città ben collegato attraverso la linea metropolitana B. Il nostro obiettivo è proprio quello di intervenire con quei servizi e quelle strutture che servono a noi, che però sono collocate e posizionate perché servano anche alla città. Il Job Placement sono iniziative che noi portiamo avanti per l'orientamento in uscita degli studenti. Radicato nelle nostre iniziative c'è invece l'orientamento in entrata, con una serie di servizi che sono stati rivolti ai soggetti deboli a chi ha delle difficoltà. Questa dotazione riguarda sia la strutturazione del servizio di accoglienza, dal GLOA al portale dello studente e così via, che migliora le condizioni e lo stato di appartenenza al nostro Ateneo, sia anche delle strutture fisiche sulle quali ormai possiamo puntare e lavorare, che vanno dal tempo libero allo sport, alle biblioteche. Un progetto che noi abbiamo in piedi è proprio quello di passare dalla biblioteca, dal sistema bibliotecario di Ateneo al sistema bibliotecario della città di Roma. L'uso di strumentazione online per lo studente sta prendendo sempre più piede, non solo da noi ma in tutti gli Atenei e le università, soprattutto all'estero. Questo permette di poter evitare tempi morti all'interno delle segreterie e soprattutto anche alle strutture di poter razionalizzare e utilizzare al meglio il personale. È una linea questa che noi stiamo perseguendo e soprattutto stiamo cercando anche di far camminare in parallelo con l'innovazione della didattica. Un buon numero di laboratori è stato attivato all'interno del nostro Ateneo con orientamento e finalità molto differenziate, sia di carattere umanistico, di produzione, sia di carattere scientifico. Sono laboratori che funzionano molto bene perché alcuni sono assolutamente destinati all'attività di ricerca e al conto terzi, quindi alla possibilità anche di servizi che sono interamente rivolti all'esterno. E molto interessanti sono anche delle iniziative che alcuni dipartimenti stanno portando avanti. Ne richiamo solo una, quella delle cliniche legali. I ragazzi che sono all'interno delle lauree magistrali acquisiscono alcuni crediti formativi proprio fornendo un servizio a strutture civili. È un'operazione che vogliamo estendere anche ad altri dipartimenti, ad altre competenze, ad altri servizi. È un po' quell'obiettivo che insieme al collegamento con il territorio ci diamo anche che si può fare della didattica imparando attraverso l'esperienza. Grazie. Grazie. Grazie.